Il dandy è colui che non solo si presenta bene a livello elegante, a livello proprio con outfit che cambia, praticamente nel particolare, no? È una cultura che sposta, sono veramente dei personaggi con una filosofia del buon vivere e insegnare comunque che in una società così forse un po' distratta educazione civica e buone maniere la fanno da padrone. Eleganza e solidarietà, così ad Arezzo tornano i dandy da tutta Italia e non solo. In occasione della Fiera Antiquaria di giugno torna infatti la due giorni di incontri ed eventi per raccontare un vero e proprio stile di vita nato nel XIX secolo che continua ancora oggi ad affascinare. Le due giornate dei dandy si arricchiscono ancora questo fine settimana, ci sono molte manifestazioni che hanno previsto, c'è una presenza in città con spicco che ha i suoi ritorni anche a livello di promozione. Ricco il programma di questa edizione dei dandy day, dalle passeggiate alle visite ai luoghi simbolo della città ed ancora la prima edizione del doc exhibition show ed una sfilata di autostoriche. Siamo stati cercati, onorati, di poter partecipare e esporre alcuni esemplari che i nostri soci mettono a disposizione. Quando si tratta di falcultura e soprattutto falcultura per Arezzo, per la città ed è anche per attrarre turisti, noi siamo sempre disponibili. Il tema eleganza, cultura è pertinente a quella che è la nostra aspirazione perché noi con le auto, con le moto, con i trattori, con tutto quello che ha movimentato il mondo, continuiamo a far cultura, non vorremmo smettere mai di farla, soprattutto per farla conoscere ai giovani, ai ragazzi delle scuole elementari. I maestri di eleganza anche quest'anno sono poi pronti ad abbracciare eventi di beneficenza a favore di realtà impegnate nel sociale. Anche per questa sesta edizione la serata di gala dei dandy day sarà dedicata all'istituto Casa Teveni. Tutto il ricavato dell'intera manifestazione saranno devolute alla nostra causa per vedere di raggiungere un obiettivo che c'eravamo prefissi qualche mese fa, che era l'acquisto di un pulmino per le nostre ragazze, un minivan da nove posti. Purtroppo l'aumento dei prezzi ci ha costretto a una seconda edizione dedicata a questo progetto.